Un saluto dal Tg della mobilità dal lunedì 9 maggio su alcune preferenziali della città entreranno in funzione una serie di dispositivi per la rilevazione automatica dei transiti. Alla base di questo provvedimento l'intenzione è di dissuadere da comportamenti legittimi tutti coloro che non sono titolati a transitarci. Tutto ciò a vantaggio della velocità commerciale dei mezzi pubblici. Sul sito romamobilita.it è possibile consultare l'elenco completo di tutti i siti dove sarà avviata la rilevazione automatica dei transiti precedentemente non prevista. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.